Maestro, allora siamo pronti per... ci stiamo orientando. Allora, noi siamo arrivati a Val Gandino, frazione della Val Seriana, e andremo verso il Monte Farno, giornata dedicata al rifugio, quindi il rifugio che si chiama... come si chiama? Il Parafulmen. Il Parafulmen. Il Parafulmen. Quindi tra poco rimanete con noi, maestro di montagna, perché ci avventureremo. Allora, fai vedere sulla cartina dove siamo. Siamo arrivati in questa zona, Gandino, dovremo salire, adesso poi la cartina è un po' così molto generica, e arrivare in questa zona qua, Monte Farno. Vedremo cosa ci aspetterà. Non c'è la neve, si cammina bene, temperatura un grado, meglio di così. E via. Maestri montagna, episodio 4. 4. A tra poco. Ale. Ale che... Do. Siamo arrivati al parcheggio di Val Gandino, Monte Farno. Come vedete è un parcheggio ampio. Munirsi di un gratta e sosta è fondamentale, altrimenti bisogna ritornare giù per una strada tortuosa. E dopodiché di qua si cammina. Siamo circondati da queste, come dire, piccole collinette. Sole molto piacevole. Siamo pronti. Allora, uno zaino leggero. Allora, uno zaino leggero. Chiudiamoci qui. Per poter camminare. Il sentiero è un pochino impervio dalla parte iniziale. Ci siamo muniti di bacchettine per aiutarci nelle nostre passeggiate. Quindi direi che ci siamo. Ecco qua, maestri in montagna, episodio 4. Continuiamo la nostra camminata. Camminata del 23 dicembre. 23 dicembre sono le ore? Boh, saranno le 10 e mezza, penso. 10 e 40. Vedete che la condizione qua sembra un paesaggio fine settembre, primi di ottobre. Vediamo che le erbe ancora gallano completamente. Non c'è presenza di neve. Andando su di qua, si raggiunge il pizzoformico, 40 minuti. Potremmo fare anche questa in una fase successiva. Però noi oggi andiamo di qua. E andremo al rifugio Parafugli. 1500 e qualcosa di più. Siamo partiti circa da 1200 metri. Poco più, mi sembra. E proseguiamo nel nostro sentiero. C'è una leggera rietta, ma neanche tanto fredda, devo dire. No, no, si sta proprio bene. Esatto. Si poteva venire tranquillamente in maglietta. Abbiamo visto persone in maglietta. Il bar. Il barista in maglietta. La ragazza in tutto. Vabbè. Al 23 dicembre. E direi che si sta bene. Abbiamo tolto la giacca perché, insomma, si inizia a scaldare. Avevamo fatto questi sentieri con la neve intorno, mi ricordo. Il mese di maggio. Invece adesso che siamo a dicembre, il neve non c'è. Siamo a dicembre, è un paesaggio autunnale. Ormai non si capisce bene. Verranno i mesi in cui qui si faranno gli olivi, gli agruvi. Coltivazione di arance. Le arance della Val Gandina. E noi, avremo lì. Vediamo a quello che la natura ci propone. Esatto. E quindi? E quindi si prosegue su questo tracciato. Vedete, è un tracciato molto semplice. È una passeggiata proprio alla portata di tutti. C'è un livello di difficoltà molto semplice. Seguiteci. E via allora, maestro in montagna. Grazie a tutti. Eccola la pianura padana che ci siamo lasciati alle spalle, immersa nella nebbia. Mentre noi qui non sappiamo più cosa toglierci. Vero, maestro? Eh, qui ci saranno, boh, 15 gradi. Oh, la miseria. 12. Non sappiamo. Stiamo continuando a togliere roba perché continua a fare caldo. Il clima è secco. Là in alto, là dietro, si può notare poi queste balze. C'è una prima abitazione che probabilmente è una stalla, un ricovero paranimale. Non si sa. Alla seconda balza dovrebbe esserci il nostro rifugio. Parafüllmen. È il parafüllmen. È là. È là. Siamo nei pressi della nostra meta. Ecco, una prima tappa che è questa baita, ma il nostro percorso prosegue poi là. Per andare su. Ed ecco il maestro Alberto, agile come una gazzella che va per i sentieri. Eh, quindi le gambe vorrebbero continuare a muoversi. In realtà non manca molto. Qui c'è una prima sosta per i pellegrini. Questa piccola baita, come vedremo tra poco, dove dentro ci sono anche delle volgarissime macchinette che distribuiscono acqua, merendine. E noi salteremo bellamente. Salteremo. Neanche prendiamo il sentiero. Noi andiamo dritti verso la nostra metà. Interterriti. Che meraviglia, eh? Questo paesaggio. Ristora l'anima. Questi sono doni che non hanno valore economico, tangibile. Sono doni che uno deve sentirlo dentro a questo paesaggio. Tutta questa, questi pendi qua poi diventano delle piste di sci. Là c'è qualcuno che osa a salire in bicicletta, più abile di noi. Dei coraggiosi. Dei coraggiosi, temerari. Sono uomini dalle ginocchia forti. Tutta questo paese ho a fermato. Siamo passati in una zona d'ombra, ne? La zona d'ombra, la temperatura è diversa, brilla sui prati, c'è una bella camicia. Siamo percorrendo un sentiero alternativo, no maestro, un sentiero alternativo che conduce ancora dei laghetti. Sì, oggi è la giornata dei laghetti, ghiacciati ovviamente. La c'è una zona panoramica e dovremmo tornare indietro. Si spera perché il parafuelment ce lo siamo lasciati un po' alle spalle e quindi o abbiamo sbagliato giro oppure dobbiamo fare proprio il contorno. E per adesso avanziamo. Vero maestro? Avanziamo. Ah, lì ci sono dei cartelli, vediamo. C'è dei cartelli, è un modo di capire. Se abbiamo toppato o se invece... Ecco, poi ci sono altri sentieri che studieremo poi sulla cartina prossimamente. Comunque non so se avete notato, il maestro Alberto è professionale con le bacchette da trekking. Vabbè, però, ascolta, venire fin qua e vedere questo panorama direi che... Ha il suo merito. Esatto. Ma che bello è lui. Tutta la vallata. Vabbè, per far prima abbiamo deciso di andare fuori sentiero. Allora, per far prima saliremo di qua, lungo questo piccolo costone, faremo una serie di zigzag, arrivaremo lì sopra. Da lì sarà possibile raggiungere esattamente là, io credo in 15 minuti, dovremmo riuscire a raggiungere 20 minuti massimo, ma secondo me 15 minuti, il rifugio. Quindi, ginocchia pronte, polpacci pronti. E via. Su de dals. Su de dals. Ecco, noto il fuoripistra, improvvisata, finalmente qua sopra abbiamo il rifugio parafulmine che ci accoglie e in uno splendido cornice, troviamo tutte le altre cime delle valli vicino, un po' sporcate dalla neve. Ciao cane, ciao, ciao, ciao. Allora, prima ci avrai, poi ci fai le feste, eh? Sei il cane del rifugio, tu, vero? Una cagnolina, eh, sei? Bella. Ciao, allora, ci accompagna al rifugio. Andiamo. Ciao. Ciao. Che bello. Beato te. Questa è una cagnolina, beata. Beata. Vuole giocare? Ma no! Ma... Ha rubato un sasso. Guarda! Ma come fa a sollevarlo? Ed ecco il rifugio parafulmine! O mio ospite che viene qua, il cane butta un sasso, tu l'ha segnata. Dici? Eccoci qua. Eccoci qua. Poi mangiamo sull'altalena. Tutto questo a un'ora e mezza da Milano. Sì, è cazzo. Eccoci qui. Che meraviglia. Lì abbiamo il pizzo fornico. C'è quella croce. La traversata dei pizzi. E noi siamo incantati. E noi siamo incantati. Sì, è cazzo. E noi siamo incantati. E noi siamo incantati. Allora abbiamo terminato un gustoso pasto qua al rifugio Parafulbe nel composto di polenta con formaggi formaggio tra l'altro al 23 dicembre ci troviamo così fuori guardate 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 quello sfondo faremo un'escursione panoramica per vedere quali montagne si vedono da qui ma qua invece maestri montagna gustano una buona grappa al miele salute ma come nostra consuetudine che buona dolce delicato buona buona molto buona si pasto apprezzatissimo direi no ci è piaciuto un pasto semplice senza grandi pretese con la torta della nonna per chiudere la torta della nonna e tutto questo rifugio Parafulbe è un posto alla portata di tutti dove si può arrivare 1500 metri o poco più 1536 e noi siamo dei signori tra l'altro prima di venire in questo rifugio collegatevi sul sito perché c'è anche una webcam sopra una webcam che adesso non la vedo più aspetta insomma viene aggiornata ogni ora una cosa del genere c'è la possibilità di vedere direttamente com'è il tempo quindi di avere una panoramica sempre affidabile così potete controllare se il clima è adeguato alla vostra gita alla vostra escursione ma la giornata dei maestri di montagna non finisce qui perché tra poco invece noi tenteremo di arrivare al pizzo formico dove c'è una grossa croce che sarà la nostra croce arrivare fin sopra ed è un po' più in alto di qui ma diciamo che in 20 minuti probabilmente arriveremo lì da quel pizzo formico riusciremo a vedere poi meglio la vallata sì perché da lì si apre proprio una bella visuale se riusciamo a arrivarci è una gran cosa tra poco vi faremo vedere alcune montagne che ci sono qua e quindi rimanete con noi con i maestri il montagna di episodio 4 23 dicembre intanto auguri a tutti quelli che ci sono esatto buone feste di Natale intanto ciao maestro eccoci qui ormai siamo in cammino stiamo scendendo lungo il sentiero un sentiero che ci porterà ben presto a risalire verso il pizzo formico eccolo là da qui andremo a dominare l'intera vallata ok siamo tornati sui nostri passi pronti per andare al pizzo formico giusto maestro dobbiamo fare questo sentierino con la polenta nello sto è un po impegnativo eh sì vediamolo dove riusciamo a arrivare giusto comunque ci sono sempre i maestri montagna olè e via grazie a tutti Siamo quasi arrivati a Pizzo Formico. E già si vede un paesaggio mozzafiato, gli ultimi sforzi dei maestri in montagna. Ecco la croce e il sole che intanto tramonta. Guardate, che spettacolo magnifico davanti a voi. Il Pizzo Arer, di là l'ha preso lana, là in fondo il Monte Pora. E noi abbiamo raggiunto la nostra meta, non ci resta che ammirare anche dall'altra parte. E' una montagna un po' seghettata che non è a Resegone, ma è il Monte Alben. 2.900 metri, anzi 2.19, là in fondo si va verso la pianura. E noi invece andremo a suonare la campanella della croce. Siamo la campanella, magari ci danno una birra, chi lo sa. Vai, andiamo a suonare. Allora, prima di scendere ci avviamo a suonare la campana con le preghiere tibetane, che sia di buon uspicio per l'anno prossimo. Maestri Montagna, alla prossima! Eeeh! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Da Pizzo Formico, Val Gandino. Siamo riusciti ad arrivare alla nostra meta, 1636 metri. Pizzo Formico, io e il maestro Alberto, da Pizzo Formico, Val Gandino, maestro di montagna, episodio 4. Alla prossima! Alla prossima puntata! Vi salutiamo con questo panorama. Tutto di quando ero in Val d'Aosta e dormivo fuori, un giorno ho dormito all'aperto su un pascolo così, e improvvisamente la temperatura è calata. Mi sono alzato, mi sono svegliato, tenuto la testa fuori dal sacco appena, c'era uno stambecco, l'ho incornata sul prato, meno male perché era tutto ghiacciato, sono scappato via. Quindi, però, ho dormito a 2300 metri. Oh, grande maestro! Adesso sei qui a raccontarci. Adesso sono qui in Val Gandino, 1600. Assicuratevi che se almeno sia per meno 20 gradi, ci sarà l'assiderazione. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Sembra, sai tipo i telefilm di Lucky Luke, che lui se ne va a cavallo verso il tramonto. Ecco! Alla prossima! Grazie a tutti.